Una buona giornata dalla redazione di ETV, benvenuti a una nuova edizione del nostro TG che come sempre potete seguire in televisione sul canale 12 ma anche in streaming sulla nostra pagina Facebook, sull'app di ETV e ovviamente sul nostro sito www.etvmarche.it. Iniziamo proprio dal nostro sito con la cronaca. L'uomo che si era barricato in casa ieri in un condominio a Morciola di Vallefoglia, siamo in provincia di Pesaro, Urbino, sono passate ben 18 ore di trattative. Ricordiamo l'uomo si era barricato nella tarda mattinata di ieri nel condominio perché aveva rifiutato il ricovero coatto e da lì aveva minacciato di buttarsi e persino di dar fuoco all'appartamento e all'intero condominio. Sul posto decine di uomini delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e poi vigili del fuoco che per precauzione avevano staccato gas e luce. Ebbene sono passate 18 ore, è passata quasi un'intera notte e alla fine l'uomo si è arreso. Nelle prime ore di questa mattina l'alba ha aperto volontariamente la porta di casa e si è consegnato alle forze dell'ordine. E sempre per la cronaca ci spostiamo invece a Senigalia per raccontarvi un'esplosione che è avvenuta a bordo di un peschereccio. Questa mattina alle 10 le fiamme si sarebbero sprigionate mentre due pescatori stavano pulendo la ghiacciaia della propria imbarcazione. C'è stata una piccola esplosione a bordo e i due uomini sono stati uscionati dalle fiamme e poi sono finiti in acqua a causa dell'esplosione. Sono stati poi recuperati dai soccorritori. I vigili del fuoco subito sul posto hanno spento le fiamme. Nel frattempo i due feriti caduti in mare sono stati tratti in salvo e condotti all'ospedale regionale di Torrette. Uno dei due purtroppo sarebbe in gravi condizioni. Ed ora cambiamo ancora argomento. Parliamo di traffico. Anche oggi bollino rosso per il rientro. Traffico intenso per tutta la giornata. Si attende sulla nostra rete autostradale ovviamente in direzione nord. Sulla 14 in particolare si segnalano già rallentamenti tra Grottamare e Porto Santelpiglio proprio in questi minuti per traffico intenso. Ed ora voltiamo di nuovo pagina. L'allarme meduse a Pesaro. Una vera e propria invasione ma arriva la rassicurazione del comune e anche delle associazioni ambientaliste. Sono innocue per l'uomo. Non facciamo loro del male. Sentiamo. Non c'è nessun allarmismo. Sono diciamo delle specie di medusa come la Cassiopeia mediterranea e le luci di mare che sono totalmente innocue. Sono tantissime e stanno affiorando dal mare. Negli ultimi giorni il litorale pesarese ne è letteralmente invaso ma niente paura. Sono innocue per l'uomo. Garantisce l'assessore del comune pesarese Magliarosa Conti che invita ad evitare comportamenti crudeli nei confronti delle meduse anche perché indispensabili per l'ecosistema marino. È il caso ad esempio della Cassiopeia mediterranea, la più frequente nelle nostre acque. Si tratta di una medusa di grandi dimensioni, può arrivare fino a 30 centimetri di diametro, dalla forma inconfondibile che richiama un uovo altegamino e soprattutto totalmente innocua per l'uomo, cioè assolutamente non urticante. Ma è il caso anche della medusa quadrifoglio, solo leggermente urticante e poi delle famose noci di mare, anch'esse del tutto innocue. Accanirsi verso queste meduse inutilmente non serve perché non è una infestazione, anzi è un'espressione della presenza della biodiversità. Voglio dire che quando si creano queste condizioni significa che il mare è in buona salute, che potrebbero arrivare anche i delfini. Meduse da una parte dunque, granchio blu dall'altra. Ci si chiede in questo periodo cosa sta succedendo ai nostri mali. Ebbene noi lo abbiamo chiesto all'esperto, il professore di zoologia all'Università Politecnica delle Marche, Carlo Cerrano. Sentiamo cosa ci ha spiegato, cosa ci ha detto. L'invasione delle meduse nelle acque a largo di Pesaro, la crescita del granchio blu tra le reti dei nostri pescatori un po' su tutta la costa marchigiana, Cosa sta succedendo davvero nei nostri mari? È colpa del cambiamento climatico o è una situazione normale? In realtà, spiega il professor Carlo Cerrano dell'Università Politecnica delle Marche, le meduse di fatto ci sono sempre state e in questa stagione con il caldo si è sempre registrato un aumento della loro presenza. Sono meduse tipiche nostre nel Mediterraneo che ci sono sempre state, ma negli ultimi anni sono comunque in aumento. Ci sono varie spiegazioni, varie ipotesi. Sicuramente una è legata al fatto che ci sono meno competitori, hanno più disponibilità trofica perché sono venute a mancare molti altri organismi, in particolare pesci e quindi loro si trovano in qualche modo agevolati. Il caldo accelera un pochino i cicli di questi organismi e quindi si trovano tipicamente in questa stagione. E il granchio blu invece? Se ne parla tanto negli ultimi mesi, ma in realtà il famoso granchio blu è arrivato dalle coste orientali degli Stati Uniti fino ai nostri mari già negli anni 50, la prima segnalazione nel 1949. Come poi si sia moltiplicato è difficile da stabilire perché non esistono monitoraggi o studi sulla sua evoluzione nel Mediterraneo. Ha iniziato la sua diffusione soprattutto nelle zone già più impoverite come la Turchia, i fondali greci, poi poco per volta è risalito, anche nel Tirreno è stato segnalato già negli anni 50. Oggi sappiamo che attacca soprattutto i bivalvi, mangia di tutto, è un onnivoro, quindi qualsiasi cosa abbia a disposizione che non si muove, è accessibile, lui se la mangia. Però è chiaro che nel nord dell'Adriatico ha trovato queste grandi risorse disponibili e si sta diffondendo molto grazie a questo tipo di offerta alimentare che ha a disposizione. La popolazione dei granchi blu in questi ultimi anni è cresciuta a dismisura, soprattutto per l'assenza di predatori naturali, da qui dunque una sola soluzione, pescarlo e consumarlo. I predatori naturali adesso al momento sono pochi e quindi il predatore naturale più efficiente siamo noi a questo punto che dobbiamo in qualche modo pescarlo e mangiarlo. Io l'ho mangiato già tante volte, è molto buono, ma voglio dire nei posti dove è naturalmente presente è tipicamente pescato e consumato e ha un ottimo valore commerciale anche. Voltiamo pagina straordinaria ancora una volta Sofia Raffaeli Argento nell'All Around ai mondiali di ginnastica ritmica in corso in questi giorni a Valencia. L'azzurra che aveva vinto il titolo lo scorso anno a Sofia è stata preceduta solo dalla atleta tedesca Dalia Farfolomew che ha chiuso con 137,250 punti contro i 135,700 della nostra atleta. Terzo posto invece per l'israeliana Atamanov. C'è da dire che l'atleta tedesca ha dominato i mondiali con 5 ori su altrettante prove individuali, ma straordinaria è stata anche come sempre la nostra Sofia Raffaeli che si è portata a casa diverse medaglie. Ed ora cambiamo di nuovo argomento la politica. La lista civica ripartiamo dai giovani che ha portato il suo giovane leader Marco Battino nella giunta di Ancona, ora fa un passo avanti e diventa movimento politico. Sentiamo. Assessore, a tre mesi dalla sua entrata nella giunta, grazie all'apparentamento con il sindaco Daniele Silvetti, ripartiamo dai giovani. La lista civica con cui si è candidato sindaco ad Ancona diventa oggi un movimento politico, un passo importante. Sì, certamente. Abbiamo un po' certificato il lavoro fatto, il duro lavoro fatto durante la scorsa campagna elettorale e in questi mesi anche all'inizio di questa nuova esperienza amministrativa. Quindi insieme al gruppo con cui abbiamo affrontato le scorse elezioni amministrative abbiamo deciso di fare un passo in più, di sostituirci ufficialmente come un movimento politico per poter poi affrontare in maniera migliore e più organizzata le future sfide anche da un punto di vista politico. Io credo che una politica senza giovani sia una politica che ha fallito. Quindi è fondamentale. Per questo motivo il nostro lavoro di cercare di far crescere questo movimento politico è proprio quello di dare alla politica nuovi stimoli, nuove idee. Perché comunque in un momento di stagnazione come quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni è necessario avere nuove persone, nuove idee e nuove sfide da affrontare. Lei è leader di questo nuovo, appena nato movimento politico, seppur con esperienza già da un anno, ma è anche assessore. La delega alle politiche giovanili, all'università, all'economia della notte ha più volte definito Ancona una città non a misura di giovani. Quali sono le sfide per il capoluogo marchigiano e su cosa sta lavorando? Le sfide sono notevoli, sono molte. Chiaramente abbiamo trovato una città che obiettivamente era poco a misura di giovani, come abbiamo detto, e quindi stiamo iniziando proprio a lavorare su un dialogo continuo con tutte le componenti cittadine, dal punto di vista delle associazioni di categoria per quanto riguarda il commercio, l'economia della notte, a tutti gli operatori del mondo della notte, così come con tutte le associazioni studentesche e giovanili della città. Quindi abbiamo iniziato a restaurare un rapporto che va oltre il semplice scambio di idee, ma una visione condivisa delle prossime azioni amministrative della città. E quindi già con il lancio del logo e della nuova visione di Ancona Città Universitaria, con le prime iniziative come la University Card che uscirà a breve, come il discorso legato ai trasporti universitari che stiamo iniziando a costituire un tavolo di lavoro con l'università proprio per approfondire questi aspetti. Credo che stiamo andando nella direzione giusta, quella di dare dei servizi completi al mondo giovanile e universitario. E questo era il nostro ultimo servizio. Noi come sempre vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona continuazione in compagnia dei nostri programmi. Grazie a tutti.